Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, qui è già cominciata prima di cominciare la discussione con i miei ospiti, buonasera Mariolina Sattanino, giornalista, buonasera Massimo Giannini, che si sta accompagnando in questa fase politica così importante, direttore della stampa e buonasera, benvenuto Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, buonasera Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena e lo sapete c'è il governo di Giorgia Meloni ed è un governo molto di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia e anche molto molto di destra, destra radicale, subito dopo la pubblicità. Allora, comincio con Massimo Giannini. Il governo di Giorgia Meloni, 24 ministri di cui 6 donne, tantissimi quelli di Fratelli d'Italia, li hanno già ribattezzati Meloni Boys, abbiamo vecchi ministeri con nuove denominazioni, è un governo di centrodestra, di destra radicale, che governo è? Intanto facciamo i complimenti a Giorgia Meloni perché è riuscita in una impresa storica, lo possiamo dire, con un po' di enfasi, ma se la merita, prima donna presidente del Consiglio in un paese che non ha mai conosciuto un'esperienza di questo tipo, prima donna che porta al governo del paese un partito che, diciamo, fino a due, tre decenni fa era ai limiti dell'arco costituzionale, diciamo, un partito erede di quella tradizione, quindi ha fatto un miracolo, in tre anni l'ha portato dal 2% al 26%, quindi complimenti a Giorgia Meloni. E' un governo di destra, ma da questo punto di vista io direi che non ci sono sorprese e ne me ne aspettavo, perché Giorgia Meloni guida un partito della destra italiana, europea, in qualche momento fortemente anti-europea, adesso ha rivisto un po' le sue posizioni, però è un governo di destra. Diciamo questo, la Presidente del Consiglio durante questi 26 giorni, anche qui un buon recordo perché ha fatto il governo presto, ha detto più volte faremo una squadra autorevole e competente. Ecco, se questo è il criterio, fissato il principio che è un governo di destra, io dico che sull'autorevolezza non ci siamo per niente, sulla competenza così così. I quattro ministeri importanti che rappresentano l'ossatura del Paese, economia, esteri, difesa e interni, dovevano essere appannaggio di ministri tecnici che davano un alto profilo al nostro Paese e quelli non ci sono. Sono ministri politici, Giorgetti ha fatto mediamente bene con il governo Draghi, Tagliani lo conosciamo, è un buon quadro dirigente europeo. Per il resto mi pare che gli altri ministeri siano affidati per lo più a profili identitari molto forti, Eugenia e Roccella su tutti e quindi ho l'impressione che la struttura è salva, l'Italia resterà un Paese europeista e atlantista quanto serve e che non farà scempio dei conti pubblici. Sul resto, diritti civili, diritti sociali, la destra farà la destra e infatti anche nelle denominazioni dei partiti, dei ministeri ci sono alcune reminiscenze, vaghe reminiscenze del ventennio. Interpello subito il professor Montanari e poi parola a voi qui in studio perché lei ha twittato subito dopo la presentazione della lista dei ministri il governo di infimo profilo. Perché e quali sono i ministri che le fanno esprimere un giudizio così duro? È un governo che non ha nemmeno un nome noto, non dico fuori d'Italia, ma fuori dai corridoi della politica italiana. È un governo con il quale la Presidente del Consiglio paga i debiti dei rapporti attraverso i quali è arrivata al potere. È un governo di cognati, di consigliori, di uomini della propaganda. E poi c'è una sezione che più che Fratelli d'Italia sembra Fratelli di Crozza, Casellati, Santanchè, Musumeci. È un governo di spartizione. Salvini ha avuto quello che voleva, compresi gli interni sostanzialmente, alla lobby dei mercanti d'armi, dei fabbricanti dei mercanti d'armi, la difesa che tanto voleva chiamarlo Ministero della Guerra, alle imprese, ai consulenti del lavoro, il lavoro, agli stabilimenti balneari, alle discoteche, il turismo. E poi è un governo ideologico nel peggiore dei sensi. La sovranità alimentare, l'autarchia, ci sarebbe da piangere, da ridere se non ci fosse da piangere. Il merito e l'istruzione. Non è più l'istruzione, ma l'istruzione e il merito. E qui c'è veramente l'alleanza del peggio, una specie di fascio liberismo. La famiglia a chi odia gli omosessuali e la natalità, ma la natalità dei bianchi, perché quella dei neri non va bene. Io lo trovo un governo estremista e un governo anche pericoloso, certamente un governo di bassissimo profilo culturale e di cultura politica. Allora, Italo Bucchino, l'ultima volta che eri stato nel nostro studio ci davamo del lei, perché allora eri un parlamentare, sei stato per molti anni in alleanza nazionale, anche a fianco di Giorgia Meloni. Adesso sei direttore editoriale del secolo d'Italia, che è l'organo di partito di Fratelli d'Italia. No, non è l'organo di partito, però diciamo è l'organo vicino, è un giornale vicino. È un giornale vicino a Fratelli d'Italia e comunque sei un profondo conoscitore tu della destra italiana post fascista, da Almirante a Giorgia Meloni. Quindi che governo è questo di Giorgia Meloni? Hai sentito apprezzamenti, critiche? Adesso poi ricorderemo anche chi sono i vari ministri cui fa riferimento il professor Montanari, ma insomma intanto vorrei sentire un tuo giudizio. Un governo che è storico, come ha detto Giannini, diciamo dal punto di vista politico, perché dopo 75 anni di destra nell'Italia repubblicana o esclusa, ricordiamo il saggio e il polo escluso del politolico Galli o di una destra diciamo secondaria o comprimaria anche nei governi di centrodestra, arriva una destra pienamente protagonista che addirittura riesce ad andare al governo con una donna, questo è uno schiaffone in faccia alla sinistra di un sonoro incredibile, e con una donna giovane, una donna tosta come una barra di titanio che ha dimostrato in questi giorni grandi capacità, fatto il governo dopo 26 giorni e 10 giorni meno della media italiana, 15 giorni meno della media europea, non la penso come il professor Montanari, ma diciamo potrei anche non dirlo, no faccio degli esempi, io vorrei sapere se secondo Montanari Speranza era meglio del professor Schillaci, preside di medicina, che sicuramente saprà fare meglio il ministro della salute di Speranza, Nordio è sicuramente meglio... Non tutti lo sanno... Schillaci è stato preside di medicina di Tor Vergata e oggi è il rettore della università di Tor Vergata, neo ministro della salute, e Speranza è stato il precedente ministro della giustizia, e Nordio certo meglio di Fofò Bonafede che faceva il DJ, cioè voglio dire almeno Nordio credo che abbia più competenze di Bonafede, Tajani come ministro degli estri è molto più credibile, è molto più credibile, è anche quello che aveva detto che è il primato del diritto italiano su quell'europeo, anche questo aveva detto pochi giorni fa... Sono discussioni che si fanno in tutta Europa, Tajani sicuramente come ministro degli estri è meglio di Di Maio come formazione, come esperienza, come relazioni internazionali, Salvini pure è meglio di Toninelli perché è un leader politico, è sempre sicuramente meglio di Toninelli, Valditara, nuovo ministro dell'istruzione, è un professore universitario di altissimo livello, di grande competenza, che si occupa di istruzione da 25 anni, c'avevamo azzolina in quel ministero, e adesso io sento Montanari, scusa fammi finire Massimo, sento Montanari dice di infimo livello, qua di infimo c'è solo la reazione di Montanari che rossica... Il problema è sempre il riferimento, qual è il punto di riferimento? Prima Mariolina Sattanino, poi... Veniamo dal governo Draghi, ti voglio ricordare... Io vorrei dire questo, che invocare delle personalità conosciute all'estero e con autorevolezza e peso dopo aver fatto cadere prematuramente Draghi, che oggi fra l'altro ha avuto un arrivederci dai colleghi europei, con un filmato veramente bello e commovente... Un grande tributo... Un grande tributo e un grande risultato nel Consiglio europeo... E quindi con questo governo Meloni? Questo governo Meloni io direi che è intanto una pagina... si cambia come non si era cambiato da anni e anni, si scrive una pagina di storia, come ha detto Massimo, ma non soltanto perché c'è una donna a Palazzo Chigi, ma anche perché entra nel cosiddetto mainstream della politica europea un partito che faceva parte di quelli che erano un po' tabù, quelli che venivano tenuti un pochino ai margini e questo potrà cambiare molto al tavolo del Consiglio europeo, bisognerà vedere per esempio l'anno prossimo che cosa farà Vox in Spagna e quindi quella è una cosa che bisognerà... Partito di estrema destra... Di estrema destra, quindi quella è una cosa che bisognerà tenere molto, ma io quello che volevo sottolineare è che Giorgia Meloni, buon governo, cattivo governo, ha stravinto, non vinto, stravinto rispetto ai suoi due competitor all'interno del centro destra, perché ha mantenuto Tagliani all'estero e Berlusconi non lo voleva, perché a Nordio invece della Casellati... Alla giustizia... E potrei continuare, perché Forza Italia ha solo tre ministeri con portafogli, gli altri... Don Alfa che sconfigge da 10 a 0 l'uomo Alfa... Una vita personale difficilmente attaccabile, io credo che sia soprattutto per questo... Allora, Massimo Giannini e poi il professor Montanari, restiamo ancora su... Sul governo? Sì, sì, su chi governerà, avrà in mano questo nostro paese, ricordiamolo, in una fase difficilissima, quindi diciamo... Non c'è dubbio... Hanno da lavorare? Ma che ci sia la discontinuità politica totale è evidente, in questo senso siamo tutti d'accordo e convinti, perché? Perché Giorgia Meloni che ha dimostrato di avere stoffa e ha esercitato al massimo la leadership in questi 26 giorni, mettendo in riga uno come Silvio Berlusconi, anche se oggi quell'immagine dopo i colloqui di questa mattina al Quirinale, mentre lei parlava e diceva gli alleati all'unanimità hanno deciso... Con Salvini ha alzato il sopracciglio, ora quello per carità può essere un fatto di colore, ma fino a un certo punto, dico questo per dire che si è chiusa la prima fase, è nato il governo, la leadership l'ha esercitata, adesso comincia il governo vero, le cose da fare e lì saranno dolori, anche con gli alleati. Detto questo però aggiungo, per tornare un momento al governo, Bocchino ha scelto due tre esempi, sì ok, ma ripeto il problema è sempre qual è il punto di riferimento, se facciamo riferimento al governo giallo-verde, anche io tendenzialmente sono d'accordo sul fatto che questo non è neanche tanto meglio, non è peggio di quello, però noi veniamo dal governo Draghi, Bocchino, questo è un punto sul quale è difficile transigere in maniera così disinvolta e qui dentro, signore mio, dov'è l'autorevolezza, dov'è il prestigio, dov'è, non c'è, è un governo di destra, è un governo di destra e non mi meraviglio, però non c'è il prestigio, è tornata la politica. Ma va bene, ma io non ti dico necessariamente che voglio i tecnici da tutte le parti, no siccome stavo parlando io. No, scusami, no, scusami per aver ti interrotto. No, ma voglio dire, ma allora, senza considerare i conflitti di interesse, perché poi ci sono anche, è ritornato il conflitto di interesse, Crosetto al Ministero della Difesa ha già annunciato che si è dimesso da tutto, che lascerà gli ultimi incarichi, benissimo, però è da lì che viene, dal mondo dell'industria degli armamenti. Scusami, ricordiamo solo, appunto, ha rappresentato fino a due secondi fa gli interessi dell'industria della Difesa, quindi... Però scusatemi. No, 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 questo lo ho solo per ricordare, perché non è che il risultato è una cosa sapere. Daniela Santanchella, che è la ministra degli stabilimenti balneari, cioè, di che parliamo? Dai, insomma, si poteva fare molto meglio? Si può dire questo? Io dico che il ministro... Dato che è scontato che è un governo di destra, si poteva fare di meglio? Allora, partiamo da... Si poteva fare di meglio e poi Bocchino e poi Montanari... È un ottimo governo, perché torna il governo politico, perché noi siamo abituati. Però ha ragione Montanari. Non vuoi parlare di meglio? Si, subito dico solo questo, ha ragione Montanari, ha dovuto accontentare troppa gente. No, non è così. E quindi lo standing si è abbassato, evidentemente. Dal 94 ad oggi noi non abbiamo avuto governi politici con consenso elettorale. Quando li abbiamo avuti i politici non avevano il consenso elettorale. D'Alema è andato senza il consenso elettorale, Enrico Letta senza il consenso elettorale. Quello non è in discussione, Bocchino. Oppure erano o gente che veniva, leader che venivano dal di fuori della politica, Berlusconi Prodi, o dei tecnici, Lini, Monti, Draghi, è tornata la politica. Perché Berlusconi e Prodi non erano politica? Beh, insomma erano politica. No, no, avevano il consenso politico, ma non erano leader politici, sono dovuti entrare dall'esterno. Oggi abbiamo un leader politico, politico a tutto tondo, nata nella politica, che ha avuto il consenso elettorale e ha fatto un buon governo. Io ho fatto cinque esempi, ma il tema che si è tornato ai ministri politici, il punto vero, allora noi non possiamo dire, ad esempio, offendiamo Crosetto e la Santa Che. Crosetto non era uno che portava avanti gli interessi di chi si occupa di là. Crosetto rappresentava, fammi finire, un'industria di categoria, cioè una categoria, un'associazione di categoria e rappresentava l'industria pubblica italiana, non è un signore, ha fatto benissimo il sottosegretario alla difesa, sarà uno straordinario di sottosegretario alla difesa, la Santa Che, scusa, ma il ministro del turismo, un imprenditore del settore del turismo, ha tutti i titoli e tutte le capacità per farlo. Ho capito che voi volete prendere un bel tecnico da un'università. Voi, intelligenza di sinistra. No, 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 non sono un'intelligenza di sinistra. Allora, è finita l'era dei tecnici, ci vogliono i politici. Ci sono cinque tecnici nel governo, di alto livello. No, però di scelte identitarie ce ne sono mica poche. Ma ci mancherebbe. Ma mica poche. Ma in tutti i governi del mondo ci fanno scelte identità. Cioè, la roccella alla famiglia è una cosa che obiettivamente preoccupa tutti i difensori Ha detto, io sono femminista, ma l'aborto non è un diritto. Parliamo, per favore, del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Vogliamo parlare di Mantovano, persona specchiata, magistrato, finiano, ipercattolico, esperto di immigrazione, di servizi segreti, con un rapporto molto stretto con Giorgia Meloni, però siamo in quell'ambito culturale. Allora, ma scusa, ma quello va bene. Un attimo, è l'ambito culturale, scusa, io sono meravigliato, ma sembra di parlare con i marziani. Ha vinto quell'ambito culturale perché gli italiani hanno votato quell'ambito culturale e quell'ambito culturale deve governare. Se governa bene, andrà avanti, se governa male, gli italiani non manderanno a casa. È la qualità del circunale politico che non è all'altezza, è la qualità che non è all'altezza. Arriveranno le regionali e la qualità purtroppo, guarda, il rating della qualità non lo facciamo noi qui, il rating della qualità lo fanno i risultati. Io conosco le persone, quasi tutti i ministri, due o tre non ne conosco, sono persone di straordinario livello, molto migliori di chi li ha preceduti in quei ministeri. Italo Bocchino, adesso diamo la parola di nuovo al professor Montanari che credo ne abbia di cose da dire e vorrei a proposito di, prima vi dicevo, ministeri vecchi con denominazioni nuove, qualche esempio, agricoltura e sovranità alimentare, abbiamo questo ministero, poi abbiamo famiglia, natalità, pari opportunità, poi abbiamo istruzione e merito che già imprese made in Italy, ambiente e sicurezza energetica, eccetera, eccetera. E la stessa Giorgia Meloni, oggi in quei, mi pare, 70 secondi dopo le consultazioni in cui ha fatto questo annuncio, questa mattina, ha usato due volte la parola nazione, mai paese. Allora, e sono giustamente, professor Montanari... È sbagliato la parola paese, perché il paese è solo il contorno geografico, la nazione comprende anche i cittadini, ha ragione la Meloni, è sbaglia chi dice... Allora è meglio dire cittadini che patriotti, per esempio, no? Allora, scusa, sono termini diversi, la nazione comprende il paese più i cittadini, patrioti viene da patria, la terra dei padri, io sono orgoglioso e onorato di vivere nella terra dei miei padri, dei miei avi. Tradizione, tradizione. Se voi non siete orgogliosi di stare, è un problema vostro per quanto ci riguarda, e gli elettori sono d'accordo con noi, perché hanno votato... Io sono orgogliosamente su Tirolese, pensi lei. Allora, voglio sapere, professor Montanari, allora, che le restituisco la parola, dice Bocchino che hanno vinto e quindi è ovvio che mettano i loro uomini, che ridefiniscano i ministeri, che facciano delle scelte identitarie. Ma è ovvio che sia così, però poi uno le scelte le può giudicare, hanno il diritto di farlo, bisognerebbe ricordarsi che sul numero degli aventi diritto al voto il partito di Giorgio Rameloni ha preso il 15%, tutto questo governo arriva al 27% se ci arriva, che non toglie nessuna legittimità formale, naturalmente, ma indurrebbe a non dire che gli italiani li vogliono lì, che c'è un plebiscito, le cose sono un po' diverse da queste. Io confermo quello che ho detto e nessuno degli esempi di Bocchino mi fa cambiare idea. Rameloni ha fatto una campagna dicendo siamo pronti e quando è arrivata il governo, con la lista dei ministri in tasca, questa lista è di sconcertante mediocrità e dimostra che non c'è una classe dirigente, non dico di buono, ma nemmeno di medio livello, che sia disposta a schierarsi da quella parte. Questo è il mio giudizio, sbaglierò, ma è il mio giudizio, mi sembra che gli esempi che ho fatto lo dimostrino. Poi dopo di che si possono cercare dei controesempi a ribasso, la storia italiana permette di dire che qualcuno può essere meglio di qualcun altro, ma per l'appunto si scegliono i punti più bassi che abbiamo vissuto finora e ci si illude di aver fatto meglio. Così non è. Quanto alla nazione, questo è un punto molto importante e molto delicato. C'è stata una polemica su una ministra francese che ha detto che terrà d'occhio l'Italia. Io credo che la risposta giusta non sia affatto che l'Italia sa badare a se stessa. Io credo che siamo in un momento in cui mi aspetto dall'Europa non solo una vigilanza sui mercati, ma anche una vigilanza sulla democrazia. Io ricordo le parole di Piero Calamandrei che durante la guerra diceva che la sua patria erano gli inglesi e i francesi che combattevano per la nostra libertà e non gli italiani in quanto italiani. Guarda che Italo Bocchino è disperato, professore. Ma come si fa, professore, scusi, una domanda. Ma come può un uomo di cultura come lei appellarsi all'estero per vigilare su un governo legittimo del paese? La nostra nazione non è una nazione per via di sangue. Questo ritorno di nazionalismo, peraltro in un momento in cui l'Europa è inondata di sangue per il nazionalismo, è proprio ciò che speravamo di esserci lasciati alle spalle. L'identitarismo nazionale, che è un nazionalismo del sangue, dell'identità religiosa, etnica. In Italia non c'è mai stata. La nostra è un'azione aperta, fondata su una cultura che per sua natura è accogliente e porosa. L'idea di patria dell'Italia è proprio il contrario di questa idea etnica. Ci sono delle istituzioni forti e salde, tanta gente all'interno delle istituzioni che difende questo tipo di principi. Quindi non abbiamo, credo, bisogno della ministra francese che dice vigileremo. Perché quello è stato la parola che ha dato uno fastidio. Poi l'Europa, c'è anche l'Europa, certamente, che ha tutti i titoli per vigilare. C'è la Corte dei diritti dell'uomo, c'è la Commissione, ci sono tante cose. Io voglio chiedervi, ti do la parola subito Massimo, ma aggiungo anche quest'altro tema. Perché uno dei primi banchi di prova di questo nuovo governo di Giorgia Meloni sarà su Piombino. Piombino è in rivolta, la popolazione e anche il sindaco, che è un sindaco dei Fratelli d'Italia, perché lì si vuole e si porterà il rigassificatore, che tutti gli esperti dicono che è cruciale per riuscire a superare il duro inverno insieme a tante altre questioni energetiche. Il presidente della regione toscana oggi ha firmato il via libera, quindi questo rigassificatore verrà messo nel porto di Piombino. Quindi qui ci sarà già un grosso problema per Giorgia Meloni, no? Vabbè non c'è dubbio, anche perché la popolazione lì si è rivoltata contro il rigassificatore, per cui vediamo come porterà avanti questa opera, una delle tante, questa non è un'opera, è una nave, però di fatto è... Sì, diciamo che diventa il simbolo del contatto con la realtà, al di là di identità e di tutte le cose che stanno discutendo. Come lei riesce a fronteggiare populismo e anche corporazioni, cioè mettendo i vari interessi sulla bilancia e scegliendo l'interesse collettivo, vediamo se lo saprà fare. Non c'è dubbio, i test da questo punto di vista saranno infiniti, questo è solo il primo, Cingolani ha detto più volte, e aggiungo tra l'altro in questo c'è persino un filo di continuità, perché Picchetto Fratin era viceministro con Cingolani, quindi ha detto più volte che i rigassificatori è l'unica cosa che ci potrà salvare. Quindi vediamo se avranno la forza di andare fino in fondo. Però io volevo dire una cosa, io non penso che, l'ho detto più volte e lo ripeto, che le camicie nere domenica prossima, cento anni dalla marcia su Roma, entreranno nella capitale come capitò in quell'occasione. No, non penso questo, come non credo che la nostra democrazia sarà sfasciata da questo governo. Però le cose che diceva il professor Montanari prima, io le condivido, c'è un problema di tipo culturale e identitario, le parole sono importanti, ripetere in maniera ossessiva il termine nazione, non è più paese ma è nazione, sottintende una certa idea del modo in cui noi stiamo al mondo e soprattutto del modo in cui noi stiamo in Europa. Inserire parole come la natalità, i giovani col Ministero dello Sport, l'istruzione e merito, il made in Italy nello sviluppo economico, cioè è un linguaggio che richiama a un'idea nostalgica e autarchica del paese. Noi stiamo dentro l'Europa, l'Europa, certo, è l'Europa fatta dalle nazioni, ma deve essere un'Europa federale. Noi con questo tipo di cultura e di approccio andiamo nella direzione contraria. Io insisto, non penso che Giorgia Meloni, tanto più come Ministro degli Esteri come Tajani, sfascerà l'Unione Europea. Però è questo tipo di narrativa che mi preoccupa rispetto agli italiani. E poi bisogna vedere le prossime elezioni in altri paesi europei. Italo, voglio solo aggiungere a questo proposito e farti anche una domanda. Perché abbiamo citato i ministeri ridenominati. Ora, Lolo Brigida è diventato Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Cos'è la sovranità alimentare? Allora, noi abbiamo praticamente il rischio di inquinamento alimentare con i prodotti che arrivano da tutto il mondo e non siamo in condizioni di fare delle battaglie in Europa a favore dei nostri prodotti, a favore della produzione del Made in Italy, a favore di quello che noi siamo. Quindi si mette come faceva Trump alcuni prodotti che vengono dall'estero e non li possiamo più importare? Abbiamo firmato dei trattati internazionali che non possono permettere quello che stiamo dicendo. Quello significa che anziché trovare nella bottiglia di salsa di pomodoro del pomodoro cinese fatto da gente sfruttata, sottopagata, senza diritti sindacali, senza tutela dell'ambiente, con dentro chissà che cosa, con dentro chissà che cosa, c'è la tutela del prodotto italiano. Dopodiché, scusate, io c'è una cosa... Massimo Giannini, che è un collega che io stimo moltissimo, non riesco a capire come possa essere spaventato da tre parole, nazione, merito e natalità. Allora, l'Italia è destinata a scomparire perché non fa figli e non fa figli perché non ci sono delle politiche a favore della famiglia, a favore delle donne, soprattutto per la conciliazione, perché la donna o lavora o fa figli in Italia. Allora, il punto qual è? Una politica per la natalità. La Francia fa la politica per la natalità. Nessuno li accusa di essere fascisti. Ma non ha un ministero per la natalità, Bocchino? Scusate, qui non c'è il ministero per la natalità. Ma sì, ma bisognava... C'è nella denominazione. Non c'è un ministero per la famiglia, c'è anche il problema. Ma io sono favorevole alla natalità. E' uno dei grandi problemi. Ma scusa, perché mi fa paura il merito? Perché voi avete visto... Ma non mi fa paura il merito, ma può esistere un ministero del merito. Ma può esistere un ministero dell'istruzione. E del merito. Che porta la parola del merito e che dà un segnale molto chiaro. Che l'istruzione non deve massificare, il merito. Accade in tutto il mondo, Massimo. Ma accade in tutto il mondo. Ma questa è una cultura delle regole. La parola paese non esiste. Si chiama cultura delle regole. La parola paese non esiste. L'ha inventata la sinistra per paura della nazione. E' l'italietta autarchica dell'altro secolo. E' un'Italia che finalmente farà l'Italia in Europa. Auguri. E' una cosa completamente... Allora, professor Montanari, rapidissimo. Posso dire una cosa che sembra non si possa dire. E' arrivato in Italia un governo di estrema destra. E' successo quello che temevamo che in Francia succedesse con la Le Pen. Io ricordo le reazioni quando Haider si è preso l'Austria. Vi cito una frase. Rivendico con orgoglio di essere fascista. Se fascista vuol dire cacciare appedate nel sedere i clandestini e gli irregolari. Questa è Daniela Santanchè. Vogliamo fare l'elenco dei ministri che hanno compromissioni in questo senso. Ricordare il ministro Lollo Brigida che inaugura il mausoleo a Graziani, criminale di guerra e collaborazionista dei nazisti. Vogliamo ricordare che se un partito che ha nello stemma la fiamma della barra di Mussolini e arriva il governo dell'Italia con una costituzione antifascista, l'onere della prova di dimostrare di non essere in quella storia è a lui. L'avete eletto al Senato la russa. La vignetta di LK, non è un accendino. Ragazzi, perché la notizia vera è che c'è un governo di estrema destra post-fascista alla vita del paese. Allora, professor Montanari, io adesso devo e voglio darvi il punto di Paolo Pagliaro. Siete tutti reinvitati in questa composizione la prossima settimana perché stiamo affrontando una serie di temi molto complicati. Il ministero dell'economia in Francia si chiama Economia, Finanze e Sovranità Industriale e Digitale. Quindi la Francia può avere la sovranità industriale e digitale nella denominazione e non sono fascisti con Macron. Invece, Nira Meloni è fascista perché mette sovranità. Io non ho detto che la Meloni è fascista. No, 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 no. Non ne usciremo per quanto, per quanto. Abbiamo parlato del Made in Italy, devo farvi abbassare i microfoni, e tant'è che il Made in Italy si è meritato anche un ministero specifico. Sentiamo Paolo Pagliaro. Welcome to Britaly, la copertina dell'Economist che paragona la deriva politico-economica inglese a quella italiana è una sciocchezza per le molte documentate ragioni che oggi sul Corriere della Sera elenca Federico Fubini. Una è che l'Italia è il settimo esportatore del mondo e mantiene le sue quote di mercato, mentre la Gran Bretagna è il quattordicesimo e ha visto le sue vendite in Europa crollare di un quarto negli ultimi cinque anni. Perché l'Italia esporta sarà chiaro a chi domani vorrà visitare uno degli atelier di brand famosi o dei laboratori dell'eccellenza artigianale solitamente chiusi al pubblico che fino a domenica apriranno le porte per mostrare come nasce il Made in Italy. L'iniziativa ideata da Cinzia Sasso si chiama Apriti Moda e propone cento appuntamenti in luoghi come la Maison Armani o quella di Alberta Ferretti, i laboratori dove nascono i gioielli di dolce e gabbana o quello a Milano dove dal 1876 si fanno gli ombrelli con una lavorazione che richiede dai 70 ai 110 passaggi a mano, ombrelli che durano cent'anni non come quelli cinesi che si devono buttare dopo la pioggia e non si sa come verranno smaltiti. Saranno aperti anche l'antica manifattura Cappelli di Roma, il laboratorio di Lis Furlani Sinfriuli e quello dei tessuti di Mario Celestino nel cuore della Sila, la camiceria Nolano a Napoli, l'atelier Martina Vida che crea i merletti di Burano, il laboratorio d'arte del teatro La Pergola a Firenze, il lanificio Cerruti a Biella, il laboratorio di Platimiro Fiorenza, maestro corallaro di Trapani riconosciuto dall'UNESCO come tesoro umano vivente. Sono una parte per il tutto, dove il tutto visitabile sul sito apritimoda.it significa 600 mila occupati diretti e un fatturato di 82 miliardi, previsto quest'anno in crescita. Siamo in chiusura, grazie professor Montanari, grazie Mariolina Sattanino, grazie Italo Bucchino, grazie Massimo Cacciari, grazie spedatrici e spedatori. Ultima cosa, scusami, mi scrive un ascoltatore che in Francia si chiama Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Avevano Colberti, te l'ho detto già prima, avevano Colberti. Quindi, Colberti, come vedete... Massimo Giannini, perché Massimo Cacciari sarà con noi martedì prossimo e loro quattro o giovedì o venerdì. Adesso Linea Diego Bianchi ha il suo propaganda live, quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo lunedì 8 e mezzo. Arrivederci.